5 dicembre, giornata internazionale del volontario. International Volunteer Day, promossa dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è la celebrazione annuale per mettere in luce il prezioso e silenzioso contributo che ogni giorno i volontari offrono alla società. Servizio civile universale, servizio volontario europeo, cooperazione internazionale allo sviluppo, sono tante le possibilità con cui vivere questa esperienza e ancora di più le modalità dell'impegno dei tanti cittadini che ogni giorno si prendono cura del territorio, animati dai valori dell'accoglienza, della giustizia, della pace, del dialogo e della legalità. Foxiv, Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario, è la più grande federazione italiana di organismi di cooperazione e volontariato internazionale che lavora per promuovere lo sviluppo di tutte le persone e dell'intera persona umana, sia nel nord che nel sud del mondo. È stata fondata nel 1972 per contribuire in coerenza con i valori evangelici e la dottrina sociale della Chiesa a sradicare ogni forma di povertà ed emarginazione e a tutelare la dignità umana. I suoi soci, che operano in 80 paesi, hanno messo a disposizione oltre 27 mila volontari internazionali per un impegno concreto e professionale di lungo periodo in progetti di sviluppo nei settori socio-sanitario, agricolo alimentare, educativo, formativo e tanti altri.